Non avevano nessuna pietà, nemmeno quando gli animali erano a terra, sfiniti, morenti. Ma le persone che hanno portato avanti questo scempio rischiano da uno a tre anni di carcere e molte fino a 160.000 euro. Ad aver pagato con la vita o con profonde ferite, invece, sono i cinghiali e i cani di razza Dogo argentino, costretti a combattere anche fino alla morte. I maltrattamenti sono stati scoperti grazie alle indagini condotte dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato del Tribunale di Urbino, con i nuclei investigativi di Roma e di Polizia Ambientale e Forestale di Pesero Urbino, Perugia, Milano e Lecco. L'operazione, hanno spiegato, ha portato a una serie di perquisizioni a carico di alcuni allevatori, ripresi mentre addestravano cani che dilagnavano a morsi una femmina adulta di cinghiale all'interno di un'azienda agricola in provincia di Pesero Urbino. Nel video sono state identificate tre persone mentre incitavano i cani ad attaccare la preda sanguinante che veniva bloccata e sorretta per le zampe posteriori da uno degli addestratori, mentre i cani proseguivano gli attacchi serrando le possenti mascelle sul cinghiale. Durante le perquisizioni, inoltre, sono stati sequestrati i cellulari, i computer, le telecamere e i supporti digitali utilizzati per registrare e archiviare il materiale audiovisivo. Dalle immagini si vedono animali gravemente feriti o sbranati. Sono stati accertati, inoltre, almeno quattro episodi, testimoniati da veterinari, di prestazioni mediche fornite a due allevatori per suturare gravi ferite riconducibili ai combattimenti. A finire nei guai in totale sono dieci persone, tra cui sei proprietari dei cani residenti in Lombardia, Umbria e Campania. Per i reati di combattimento, uccisione e maltrattamento di animali sono stati rinviati a giudizio, con citazione diretta dal PM di Urbino Simonetta Catani. Fra loro ci sono tre allevatori residenti nelle province di Perugia e Milano. A processo anche il gestore di un allevamento di cinghiale di Cagli, dove il 3 maggio 2014 è avvenuto uno dei combattimenti, per il quale, grazie a un video e a testimonianze oculare, è stato possibile accertare l'identità dei partecipanti e il modus operandi del gruppo.